La fortuna vi ha abbandonato? Ho quello che fa per voi! Di che cosa si tratta? Avventura, brivido, pericolo e immense fortune. Adoro l'avventura! Se hai drachme e tempo a disposizione, ho l'avventura giusta per te! Dimmi di più. Dobbiamo mantenere il segreto, Mistius. Non possiamo svelare a tutti l'esistenza del tesoro. Ma prima, ogni cosa ha il suo prezzo. Pagami e ti darò una tavoletta con scritto ciò che devi sapere. Ecco a te. Eccellente, ecco a te. Questa tavoletta ti condurrà a tesori inestimabili. Cosa? Dimmi solo dove... La tavoletta dice tutto. Cosa dovrebbe significare? Guarda la tavoletta e segui le istruzioni, Mistius. Il mio lavoro qui è finito. Sull'isola di Diakoftia, a largo della costa orientale di Citera, la ricompensa attende. La port... La tavoletta dice tutto. La fortuna vi ha abbandonato? Ho quello che fa per voi! Ho quello che fa per voi! Qua per voi! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci siamo? Grazie a tutti. Cercherò di non farmi vedere. Cazzo! Vattene, uccellati! Non, 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 non... No! No, non vedo nulla! Proverò quelli... No, non, 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 non... No, non, 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 non... No, non, 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 non... No, non, 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 non... No, non, non, non...